il nuovo appuntamento con Rack Magazine insomma settimana che verrà ricordata nella storia è morto all'età di 90 anni il giudice viola un monumento un esempio da seguire una persona straordinaria il papà del basket reggino ma soprattutto un uomo che ha scritto pagine su pagine indelebili dello sport e anche della nostra nazione una persona che probabilmente per raccontarla realmente servirebbero libri su libri nativo di bova è stato anche presidente onorario della corte di cassazione anche se per la reggio calabria sportiva è il deus ex macchina della storia della cestistica piero viola nata grazie alla volontà degli appassionati di carlo e michaeli che andarono proprio al giudice che a quei tempi era completamente estraneo al mondo della palla spicchi e lo costrinsero tra virgolette a scendere in campo come dirigente in onore del fratello defunto piero è già discussione in città su cosa possa essere intitolato alla memoria una figura così straordinaria sinceramente togliere un'intitolazione già esistente è un qualcosa di cattivo scordati i palazzetti dello sport che bene o male sono tutti già intitolati dal professore calafiore per il palapentimele da gianfranco benvenuti il palabotteghelle e in corso una procedura per il piccolo palazzetto di arti nel ricordo del coach nuccio geri lo scatolone intestato a piero viola proprio al defunto piero viola pierino gemello del giudice sinceramente quello che possiamo proporre da questo network e di proporre il nuovo palazzo di giustizia alla memoria del giudice viola penso sia la strada più bella ed intrigante considerata anche la sua carriera strepitosa a livello professionale ci guardiamo il nostro servizio dedicato al giudice viola e poi torniamo sul punto sui campionati di calabria la bella favola della viola nasce nel 1966 quando muore piero il mio fratello gemello piero era un medico valoroso disponibile generoso quasi fino alla filantropia è noto che c'è un legame particolare insomma fra fratelli che siano gemelli per me è stato devastante questo evento doloroso io ricordo che mamma quando eravamo piccoli insomma fino a una certa età all'imprunire non ci riconosceva e diceva chi sei sei pierino peppino allora eravamo piccoline questa è l'unica foto che io ho di lui con la sua squadretta ed era molto legato a questi ragazzi che assisteva che seguiva e diceva che lo strumento più agevole più efficace per catturare e orientare i giovani era quello dello sport quindi non aveva scelto in funzione di questo obiettivo quando de carlo micali e gli altri vennero nell'ottobre del 66 chiedendo insomma nella mia collaborazione perché volevano proseguire in questo impegno mi comunicarono che avevano intitolato la società a lui e infatti è nata in quel momento l'associazione cestistica piero viola reggio calabria quindi la gente non conosce questo particolare pensa che la società porti il mio nome insomma questa è stata la ragione per cui io come dire sono entrato nel mondo dello sport dal quale ero assolutamente lontano per via dei miei impegni di lavoro delle tante cose che mi avevano assorbito insomma anche nella nella giovane età partiamo dalla viola reggio calabria che si salva nella gara del mercoledì battendo agevolmente la scandone avellino che giocherà la finale play out per non retrocedere non contro monopoli candidata numero uno alla retrocessione bensì contro pozzuoli anche perché il team di coach antonio paternoster strabilia stupisce tutti e vince di un solo punto grazie alla bomba di un altro ex viola ovvero emiliano paparella che regala la permanenza nella categoria dell'action now formazione che all'inizio dell'anno era partita con l'iscrizione in c gold con coach millina alla guida e con una squadra per vincere il campionato sottostante durante la supercoppa complice il forfait inaspettato e clamoroso dell'olimpia matera è arrivata questa richiesta di ripescaggio è stata anche ottenuta in monopoli si salva con grande merito la salvezza dunque nella categoria per conoscere quale sarà l'altra formazione che si aggregerà ai calabresi della mastri academy sarà tra pozzuoli e scandone avellino per quanto riguarda invece reggio calabria piccolo aggiornamento dalle condizioni di edoardo roveda il playmaker di coach bolignano uscito malconcio col setto nasale rotto dopo uno scontro davvero brutto di gioco e dopo una botta successiva di un giocatore della scandone avellino marra sanzionato con una giornata di squalifica probabilmente troppo poco visto il colpo che potete vedere anche nelle nostre immagini roveda sta bene si è operato nelle ore appena trascorse e ritornerà in campo chiaramente per la prossima stagione è ancora presto per capire chi saranno i confermati in casa pallacanestro viola è doveroso chiudere l'anno nel migliore dei modi nonostante questa notizia della scomparsa del giudice viola che ha rattristato ovviamente un po tutto l'ambiente salvezza è stata ci guardiamo il servizio poi torniamo per gli aggiornamenti dagli altri campionati la pallacanestro viola ce l'ha fatta la giovane formazione nero arancio ad un anno dall'acquisizione del titolo sportivo per opera della bertina soresina ottiene la permanenza nel campionato una permanenza sicuramente non facile conquistata a gara 5 contro la maidoma scandone avellino questo termine maidoma però non si deve sicuramente accostare in gara 5 per la formazione irpina apparsa assolutamente scarica e totalmente travolta dalla voglia di vincere il quintetto di coach domenico bolignano una prestazione esemplare guerra dei reggini che fanno festa 7 a 0 iniziale partita dominata è lungo e largo vantaggio che sfiora anche i 30 punti di scarto finale barrile gioca in fase offensiva da leader yandefal è un recordman vero e proprio di rimbalzi e si conferma mvp della serata genovese e gobbato continua a puntellare il canestro per una pallacanestro viola che vista ieri probabilmente mai e poi mai qualcuno potrebbe avere avuto il coraggio di dire questa formazione non ha mai vinto in trasferta e questa formazione non è andata ai playoff è andata così poteva andare molto molto meglio ma comunque arrivano sorrisi per un'impresa sul campo conquistata grazie al sostegno dei tifosi di tutti i supporters e di un campionato sicuramente non facile dal punto di vista gestionale aggiornamenti importanti anche perché la vista del gioco calabria è complice la vittoria contro cercola e la conseguenza sconfitta tra le polemiche della new basket caserta contro angri può festeggiare la salvezza in questo campionato campionato molto molto tribolato nato con la sinergia con la scuola di basket viola che dopo un anno scarso è già tramontata luigi di bernardo e capiano condello rappresentanti delle società hanno comunicato che l'accordo è già saltato dunque andranno avanti per strade differenti salvezza per la vis in c gold continua invece l'evolversi di altre due squadre di calabria il basket bollamezia può e deve farcela nella corsa playoff ma non dipenderà soltanto dalle performance di monier e soci il quintetto allenato al coach reggino francesco barilla dovrà vincere domenica alle ore 18 al palace party di lamezia terme contro il club basket il pinia squadra fuori ai giochi però mai arrendevole in queste ultime giornate nonostante gli infortuni a linton johnson alle ex viola reggio calabria maurizio ferrara e alla partenza prima del previsto del forte greco gerbis dunque lamezia dovrà vincere e aspettare il risultato della gara tra agropoli e benevento in caso di vittoria di agropoli lamezia sarà automaticamente fuori dal playoff in caso invece di impresa di benevento è riduce proprio dalla vittoria contro lamezia anche benevento è fuori dai giochi perché già da tempo matematicamente di seconda il basketball lamezia a quel punto conquisterebbe un tassello per il playoff per volare in serie b e affronterebbe impossiso nel fortissimo fuorio ancora imbattuto per quanto riguarda invece la corsa per non retrocedere rischia grossissimo il rende che per salvarsi in questo campionato dovrà tifare vissere il gioco calabria anche essa fuori ai giochi già salva come anticipavamo che dovrà vincere ad angri contemporaneamente rende dovrà vincere tra le mure amiche contro la new basket casetta che secondo i pronostici potrebbe essere l'avversaria in post season del quintetto di coach pierpaolo carbone non finisce qui anche perché si gioca anche in serie b femminile si gioca al sabato questo oggi la centro basket cadanzaro gioca per salvarsi anche perché giovedì scorso contro ogni logica il comitato fib campania ha deciso che si retrocede in questo campionato un po di queste situazioni le abbiamo viste anche in c gold sempre allo stesso comitato non so quanto possa fare bene cambiare le regole in corsa all'interno di un torneo specialmente nell'ultima settimana di gara comunque a testa alta le ragazze di coach a nastorino scenderanno in campo per conservare il titolo sportivo hanno due chance si salveranno se cercola perderà in casa nella gara contro taranto e si salveranno ovviamente in caso di vittoria tra le mura amiche alle ore 18 e 30 al paragallo di catanzaro lido contro potenza in serie d continua la striscia di sconfitte per gli stingers che perdono al mercoledì sul campo dell'aci bonaccorsi e saranno impegnati sempre oggi alle 18 e 30 in casa contro il fortissimo canica t all'inizio di questa settimana invece progetto dedicato alla memoria di massimo mazzetto una statua straordinaria e bellissima finanziata dai privati grazie all'operato del comitato massimo mazzetto ci guardiamo il servizio e poi torniamo per i saluti finali si chiamerà il dono la nuova statua dedicata alla memoria di massimo mazzetto cestista della grandissima viola scomparso nel giugno del 1986 in seguito a un tragico incidente questa mattina nel salone dei lampadari palazzo san giorgio il coach Gaetano Gebbia promotore attraverso l'operato del comitato massimo mazzetto il presidente dello stesso Andrea fratello del compianto massimo Michela Pagnin e tantissimi addetti ai lavori in compagnia dell'area istituzionale rappresentata dal comune di Reggio Calabria col sindaco Falco Matai, assessori Scopelliti e Palmenta e ovviamente anche del comune di Padova rappresentato dall'assessore Bonavina hanno presentato la nuova progettualità, il nuovo dono, un dono straordinario pronto a far dimenticare in fretta quello che è accaduto tristemente alla vecchia stele posizionata a largo botteghelle e distrutta da dei minori la nuova statua realizzata dalla scultrice Katrin Puglia verrà realizzata nella nuova area Tempietto attraverso contributi privati all'incontro tante emozioni, tanti compagni di squadra come Massimo Bianchi come Donato Avenia, come la stella della nazionale italiana di quei tempi Roberto Brunamonti alla presenza anche dell'ingegnere Scambia presidentissimo di quella straordinaria Viola Reggio Calabria il contributo arriverà anche dalla sua formazione juniores la nazionale dove Massimo Mazzetto sognava e volava altissimo e nazionale dove giocavano talenti del calibro di Massimo Minto e Riccardo Morandotti rappresentati per l'occasione da Paolo Cocchia, tantissimi interventi, tantissime le sinergie da Rotary Club Unito di Reggio Calabria passando per la regina calcio rappresentata dal dirigente Fabio De Lillo presente il presidente della FIP Padova Flavio Camporese presente anche la pallacanestro Viola di oggi con il numero uno del supporter trust Gabriele Calabro messaggi di incoraggiamento anche da parte di Luigi Zampella presidente del PGS Mini Basket Circuit un lavoro di sinergia tra federazioni, istituzioni, privati che ovviamente manderà in campo una statua bellissima la speranza che accanto a questa statua di Massimo Mazzetto si inizia a pensare qualcosa di importantissimo per la memoria del giudice Viola una pedina importantissima per la crescita di tutto il territorio un territorio che ha saputo combattere e reagire di fronte a difficoltà straordinarie facendo diventare il mito Nero Arancio la stella del sud pronta a combattere contro i poteri forti contro il basket di altissimo livello come l'Olimpia Milano come le due Bologna sempre a braccetto con l'ingegnere Scambia il giudice Viola ha rappresentato realmente un mito che ci mancherà tantissimo il suo insegnamento però va salvaguardato giorno dopo giorno, azione dopo azione anche perché stiamo parlando di una persona veramente straordinaria un mito vero e proprio con Rack Magazine torniamo tra 48 ore per gli aggiornamenti dei campi sempre alle ore 20 su Reggio TV io vi auguro una buona continuazione e alla prossima!